Per me è una partita un po' speciale, è la prima d'avversaria contro la Reier, cercherò di non pensarci troppo e dare il mio contributo per la squadra. Eravamo in un ottimo stato di forma prima della sosta, può essere una partita insidiosa anche perché magari abbiamo perso un po' il ritmo e in tante hanno partecipato alla finestra giocando con le proprie nazionali, però stiamo lavorando duramente quindi sono fiduciosa. Vi aspettiamo tutti domenica al Palaromare alle 19.30 per il derby contro la Reier Venezia. Ciao!